Ciao Allora, in questo momento sono le 7.04 Abbiamo giocato 4 ore a sto gioco E dai, finiamolo, dai, super, vai Per direvi quanto cazzo dura sto giochino, dai cazzo Mi hai fatto già 40 secondi di intro, dai Vai, inizia, continua Eh, buongiorno Tero merito Te lo meriti? Ma sembra meglio Cazzo Oh, vedi che non ce l'ho luto Guarda, guarda, guarda Ancora, guarda, guarda Finalmente Allora, ragazzi, questa giornata maniera di distruzione Ho capito Tra cui sciogliere oggetti Puoi ancora prenderlo Attenta che sei colpiscito Ah, ah, ah Tocchi finali Unito, avevo bisogno di un dito Perché mi fate sederli No Dai, vai, posso rimuovere Ma vuoi cosa ti fa? Non riesco a scoprire Stai scoprire Vado a dormire Dillo prima no Oh, no, no Non sono più esterno No Ah, ah E che io non sono più esterno Oh, aspetta, che facciamo Cava sto cuscino che dopo non si sente la macchina Non si sente la macchina Non si sente la macchina Guarda il soffitto prima di uscire No Eh, vabbè Dai, però, non ho detto È al contrario Eh, vai dentro a leggere Andro, fa leggere Vai dentro Andro Andro L'ho letto di prima Stai Trianda Prova e riprova Sta deteriorando tutta questa stanza del cazzo Ma dici il dito, dai Secondo me come sottofondo ci sarà la tv di tua madre Visto è una donna, te l'ho detto È una puttata Ah, poi se ti vuole far vedere com'era Ma ti ho detto io tre episodi fa Ma cos'è quella bolla che è già nel collo? È un collo, è un collo, è un collo Un collo Un collo Un collo Raga, sbaglio Quante ne mancano? Sbaglio Eh, guarda quante ne mancano Una Sbaglio Enhè Allegri vai tranquillo boh vaffanculo sto gioco del cazzo è tutto inquietudine e niente paura solo ogni tanto ma vaffanculo poi ci sono quei rari momenti in cui ti viene un cazzo di jumpscare della madonna in cui muori congelato congelato? congelato perché muori nel banco frigo ma te ne vai dopo di questo va finire che quel topo di cazzo ti salva la vita da tua moglie morta ma vaffanculo no si ecco l'avevo visto si si questo quadro l'avevo già visto da qualche parte si è un serpente è un serpente what the fuck guarda guarda fa paura ah beh lo ricordo anch'io ma oddio cosa devo fare? io non sa come fa vj mi metto qui in mezzo dai infatti guarda in alto guarda in alto guarda in alto guarda in alto guarda dietro ci sono tutti i topi dietro dove? i quadri però non è che non faccia la famora ma guarda ma guardi noi ma non c'è niente che fa paura ci sono i topi dietro guarda guarda non starci sopra non starci sopra non starci sopra che si incazza ma hai paura dei topi no non starci sopra vado a attacare sul foglio per anima antipano aiutemi olo sento anch'io? ma che ce l'avevi fatto? ma fa con un sceglia di fiacco e mi sta esplodendo un' orecchia non sai adesso di quei quadri? ma guardaci quali quadri? quelli per terra come faccio guardarci dietro c'è un appeto sono scomparso il marx play in esterni ai dott. per il sol mio guardare mai porti a stappare il porto.it marzo stupido mi sta parlando ora è che i tipi pazzi in realtà sono flashback di cose che ha detto quando c'è un ragazzo ecco sei magari alla fine tipo lui era fatto scoprire quello che si fatte ma lui era un ubriacone zii questo qui è un viaggio nella mente di un pazzo ptana guarda la zizia guarda la zizia io mi sono abituato nuovo perchéroom titeva poi ci si tocca ogni volta che la credisce lui muore e poi rinasce Non è che rinascere, secondo me rientriamo noi il mostro Svieni la porta, la guarda che parte Eeeh, vabbè Guarda un attimo il letto Guarda quanto, no, gira ancora Quanto ci sono sbattuti lì sopra Mentre dormiva, infatti adesso ha fatto Mmm, mi fa un po' male il culo Morgan, no, no Morgan, non prendere pericolo il gioco che dopo il gioco gli gira i numeroni e ti offendai Con le paure Tu offrende con le paure Il perfetto di relazione, no, 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 no Che cazzo è che mi stava mangiando il piede Perché devi dire cazzare Nooo Basta colori Com'è che mi sono abituato che più ci sono colori Eeeh, tu spiegami perché c'è una porta per terra Perché no Io c'entrerei La porta per la cantina Stella Rumore di caduta Rumore di paura Oh, porco Lorenzo quando ha paura Ti massacra, cazzo Sta zitto, guarda Ma guarda, tu Non ho più il nado Raga, c'è la nebbia in casa Devi filmando Nooo Eccolo lì è un film Pochi spoiler Ma c'è il trampolino, zi Sì, lo più due coglioni Ma che casa del cazzo Sì, vabbè, ma è impossibile che esista una casa del genere C'è un castello C'è un castello Neanche Bello questo ascensor Non è una musichetta Io ce l'ho sparata ma manetta nelle orecchie Non è una musichetta Non è una musichetta No, lì c'è la porta dietro Lì c'è la porta dietro Lì c'è il coso Che lui sta facendo nella sua mente Per tornare sano Perchè è pozzi Beh, io sto giocando Sto guardando il gioco sia lì che qui Eh? Sto guardando il gioco in doppio No, 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 no Eh, bella amica Un posto Che concludiamo quella serie Devi fare la scritta sopra Non mi avevate detto che facevamo la tavola Non mi aveva detto Non mi aveva detto Lì Non mi aveva detto Lì Ah, ma è tipo il gioco Quello che te l'indovini No No, allora devi trovare scritto qualcosa Spirit Frocio Filedger Scemo filaggio Ha una forza da ricerci No, fangulo, ta la carrozzina Che te è una lampola Che sei fatto? C'è una lampola Venga corridoio Almeno ho messo bene Sarebbe bene Sicuro No, l'hai detto Ero bene L'hai detto L'hai detto Ah, l'hai messo bene Gisop L'hai detto proprio Me l'aspettavo Ma quanto bisogna essere stupido Di nuovo il bagno no, car C'è un brazzo Che bello Vabbè ogni tanto Non c'è farlo C'è la finestra no 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 E si lavava sempre nella stessa acqua Ma guarda un attimo uno sbaglio in coltello Ha detto che doveva appigliare il coltello lui E' varita Un'altra parte Perfetto L'hai detto No aspetta un attimo No aspetta un attimo Disicuro dieci minuti quarto d'ora Sì ok Camerà di cinque minuti Vabbè ciao grazie devo tenere premuto c'è cazzo di vasca c'era qualcosa ah devo tenere premuto guarda craniata brutale c'era qualcos'altro prima però ma sai che sei una puttana vabbè adesso si fa pegliare a paura vabbè dai vieni giù è una faccia quella la deco ormai ci ha abituato no hai preso così paura mi ha tolto la testa all'acqua ancora no no io tenevo premuto hai visto ha cambiato stanza posso pulirmi l'occhio cazzo mi da patatine nell'occhio patatine dove devo andare sai che stai guardando di nuovo tutte le stanze però c'è la bambina che suona adesso tira fuori la testa si ma stava affogando rega e secondo me si vuole suicidare no deve finire il dipinto anch'io voglio tirare testate la mega bambina lì dietro quella che tirava testata la casa l'abbiamo perso si abbiamo perso l'occhio è finito muore stafì 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 come un macellaio un mostro ma almeno da tutto questo schifo sarebbe uscito qualcosa di bello ma che cazzo è il quadro della moglie è l'occhio della moglie morare alla fine tipo la moglie vede fuori ecco l'era l'ultimo pezzo verrà fuori sicuramente questo è il lavoro di Leonardo da Vinci guarda guarda no no dai no c'è un pezzo di merda giochiamo a domino a domino questo è domino una dama dai abbiamo finito il gioco dai abbiamo finito il gioco dai abbiamo finito il gioco cazzo dov'è la porta no dove? lì questo è un armadio in jail non finisce qua no l'altro è lì dai se vuoi finire il gioco devi vincere la partita prova a far cosi esatto no almeno il canto è bello adesso la moglie la bambina oh l'abbiamo comprato ci siete lì no ma devi fare la macchina qua ci sono da no perché uno è rimasto in piedi due è rimasto in piedi grazie ci sono due porte non ci sono le porte dove le vedi c'è qua nelle case questa vena madonna vabbè vuoi hai visto che devi interagire con qualcosa? vabbè 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 un altro po' no non mi starei mica dicendo prova a andare la forse ce n'è solo uno prova a andare la forse ce n'è solo uno ce n'è solo uno raga guardate la no raga guardate il dipinto è stato uscendo ho visto qualcosa che ho uscito da il dipinto è guardate lo sgabello no 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 e adesso? non cercarmi un altro? si vabbè vaffanculo qua ci vuole un'altra mezz'ora zacca se no finisce il video dal solo e poi ce la guardiamo facciamo così tu vai vabbè spero che comunque il video vi sia piaciuto facciamo il video a due parti quindi ci vediamo